Due parole per Swiss Fashion TV? Sì, mi tesoro. Lei cosa ne pensa? Una donna così stilosa, una donna in politica, ma sempre attenta al look. Io sono attenta al look, ma in genere cura il look di Silvio. Siamo una sportiva appassionata di ballo e di moda, vero? Come una appassionata di ballo da poco, perché in realtà prima proprio io e il ballo eravamo due pianeti completamente distanti. Ci siamo leggermente avvicinati, però mi sto divertendo molto, mi piace tanto e forse ho fatto anche qualche piccolo miglioramento. Cosa pensi di questa splendida collezione che abbiamo visto? Guarda, sono rimasta colpitissima, mi è piaciuto tutto. Ovviamente a me piace tantissimo il bianco, poi per cui tutta quella sfilata del cashmere bianco mi è piaciuta da matti, gli stivali meravigliosi e poi c'era un vestito da sera stupendo, veramente era tutto bellissimo. Magari ti vedremo in passerella prossimamente? Così, per gioco magari, perché non ho né la statura né il fisico purtroppo. Ci fai un saluto per Swiss Fashion TV? D'accordo, un abbraccino a tutti, anzi un abbraccione e un bacio. Ciao!